conoscere il proprio respiro abbassando l'ansia per scoprire un nuovo mondo inspira ed espira sempre accompagnata in un incredibile viaggio dipingendo sott'acqua poco a poco la respirazione si fa più lenta vi osservo ma già senza che ve ne accorgete siete in un'altra dimensione c'è chi viaggia tra le galassie cercando la sua casa e scoprendo che è già nel suo cuore c'è chi scaricata la rabbia lo stress e l'ansia incontra la sua amanta la sua vera essenza chi in radia di luce la sua foresta incantata aprendola con gioia a tutti noi e chi apre le porte al suo stargate eccovi rinati come madri di voi stessi eccovi rinati